È un'operazione vera e propria in tutto e per tutto, è un ordigno che conserva tutte le sue potenzialità distruttive, anzi sono state ulteriormente acuite da quello che è stato l'effetto meccanico probabilmente correlato con l'evento del bombardamento al lato dello sgancio e anche con l'effetto del deterioramento correlato con il tempo e gli agenti atmosferici. La massima sicurezza noi l'abbiamo ricercata implementando e realizzando tutta una serie di misure di mitigazione degli effetti di una potenziale esplosione chiaramente involontaria, accidentale, che potrebbe occorrere durante le fasi di rimozione dell'innesco sensibile e abbiamo identificato quella che è di fatto la procedura che presenta meno rischi in assoluto, sia per il contesto esterno sia per gli operatori che andranno ad interagire con l'ordigno. Chiediamo nuovamente, unendomi praticamente alla richiesta del signor sindaco, così come del signor prefetto, la massima collaborazione perché il non rispettare quelle che sono le disposizioni di sgombero che sono state date e diremate potrebbe comportare un serio ritardo, un serio aggravio per anche la tranquillità, la sicurezza e le attività antropiche che si terranno nella città di Vicenza.